Oggi frittura di calamari, come sono bello, belli dunno dunno e con qualche fettina di limone se vi piace, se no soltanto un po' di sale e che ti mangia. Stasera freselline integrali con pomodoro dell'epomeo, poi provola di bufala campana e olive bianche, una meraviglia, soltanto un po' di sale, un po' di pepe e olio d'oliva extravergine. E a tutti buon appetito! A Ischia, in particolare a Casamicciola, nel supermercato, ogni lunedì si trova proprio un po' di pepe, ma io non lo metto, qualche olivetta e vi mangiate il paradiso, pagliù, buon appetito! Puparuola, prima arrostiti, dopodiché fatti all'insalata, semplicemente con aglio, olive, se volete capperi e del basilico. A tutti buon appetito! Oggi, Murignana Scarpone, ecco voi di caffè, pietanza meravigliosa, ciao ciao! Sempre spaghettino, questo è un grande spaghettino con pomodoro alla marinara, una bella foglia di basilico, parmigiano non grazie, a tutti buon appetito! Vermicello con le vongole, in compagnia dei miei amici, Peppino, Battone, Silvia, grande biancolella, pagliù! Oggi non pesce, ma carne alla pizzaiola, con i pomodorini dell'epomeo e pagliù! A fin romuno, buon appetito! Oggi, lardiata al basilico e pomodoro, ovviamente! Guardate i pezzi di lardino che escono! Questa è la cotica, spaghetti scanalati, e pagliù! Pomodori di ischia, a fin romuno! Buon appetito! Tieti! Dovrete sentire il sapore! È una cosa meravigliosa! A tutti buon appetito! Buon appetito!